Senior femmine all'appello, senior femmine all'appello Partita la batteria con Puziol che si porta in testa Puziol seguito da Lugato, poi Manzotti allunga l'atleta della New Roller di Porcia prende Campana con Manzotti ora che si è portato in seconda posizione va a chiudere Puziol, andiamo a vedere il suo tempo è di 42.93 seconda batteria allora è partita la batteria con Cobbato in testa ora all'interno viene attaccato e sopravvanzato da De Angelis ancora in testa l'atleta del Rolling Puziol che ha seguito da Cobbato eccoli alla campana De Angelis Gobbato e Tagliente questi gli atleti vanno a chiudere De Angelis in 42 e 63 partita la batteria con Covelli, Bresciani, Mannai e Gagliazzo anzi sono in tre quindi non ha preso via questa batteria Mannai mentre in testa l'atleta Gaglialitano Mannai in testa con viene sopravvanzato ora dall'atleta dei mobili di Cantù ed Eccovelli che va a chiudere in 44 e 25 attenzione abbiamo una falsa per il numero 222 Cuppone parte ora regolarmente la batteria ed è Kevin Massa che all'interno della corda riesce a mantenere la prima posizione seguito da Cecchini Massa e Cecchini prendono subito margine rispetto agli altri contendenti al passaggio suono della campana con Kevin Massa che resta in testa alla batteria ed è l'atleta del Forlì Roller che va a chiudere in 44.03 ricordo che i migliori 16 tempi partita la batteria con Ceola che all'interno tiene la corda e la posizione in testa con Bertolo che si mette alle spalle Ceola e Bertolo hanno margine rispetto a Meggiolaro ed Abis o la suono della campana per l'atleta della polisportiva di Bellusco che resta in testa con Bertolo che resta lì coperto vanno a chiudere i due atleti e andiamo a vedere il tempo di questa batteria che è di 42.45